I carabinieri della compagnia di Marsala, unitamente ai colleghi del XII Reggimento Sicilia, hanno eseguito una serie di servizi, prevalentemente presso il centro storico, al termine dei quali sono state denunciate per vari reati sei persone, tutte marsalesi. Un 39enne e un 40enne sono stati deferiti per furto aggravato di cavi di rame, in quanto sarebbero stati sorpresi ad asportare cavi dall'impianto di illuminazione pubblica. Un pregiudicato trentenne, già denunciato dai carabinieri tre volte negli ultimi mesi per vari furti, tra i quali un mezzo per disabili e altri veicoli, sarebbe stato sorpreso in sella a una bici elettrica che da certamenti è risultata compendio di furto, motivo per il quale è stato denunciato per ricettazione bici poi riconsegnata all'avente diritto. Tre marsalesi, durante l'identificazione di soggetti fermati tra le vie del centro storico, sarebbero stati sorpresi in violazione del divieto di accesso in aree urbane cui erano sottoposti. Nel medesimo contesto operativo sono state segnalate alla prefettura di Trapani 11 persone per la detenzione di una modica quantità di sostanza stupefacente presumibilmente da utilizzare per uso personale.